Sto installando eh Ok ha finito di installarlo Lo faccio partire Non si sta aprendo No Non si sta aprendo Perché il gioco non si chiama Ambulance Simulator Si chiama Emergency Doctor Però nel titolo è Ambulance Simulator Non so perché Non c'è Non ci sono le opzioni Giorno 1 8.53 del mattino Libero La missione è troppo in alto C'è un uomo Che è palesemente un manichino Spiacciato dalle le casse Sembra promettere bene Attenti all'audio Io ve lo dico Attenti all'audio Incidente in zona industriale Operaio colpito da una cassa Non c'è l'audio Ma chi cazzo è Porca putta Io lo vedo così Io lo vedo così A parte l'audio Ma poi Allora aspetta Allora io lo muto dal mixer di Windows Datemi un secondo L'ho mutato Analizziamolo un secondo insieme Dunque Perché il cruscotto qua a sinistra È Spiacciato È Una foto in bassissima risoluzione Del Del Contachilometri Tipo Anche i palazzi C'è una macchina che è tutta Senza muoverle ruote Arrivederci Voglio i Non ci sono i tasti Nesgen Nesgen Ten 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 IGN 9.8 È perfetto Stenzare il veicolo Accelere sterzo usando i tasti freccia Ma chi li usa più i tasti freccia Ecco ecco Sta andando Eh Eh maronna Aspetta È di una lentezza inenarrabile Ma tu Ma tu Non frena Sto premendo Quanto ci vuole per fare un freno Ok Metto L'audio Al mi Al minimo Perché lo voglio Perché sennò veramente sembra Porca troia Ancora troppo Andiamo A salvare la gente Come gira male Non frena Però funziona Il 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 cruscotto Lì È in bassa sisa Funziona Perca troia Ma dai Mamma mia L'audio della sirena Ok Dovrebbe essere qui il punto Ci vado di freno a mano Perché il freno normale Non funzia Ok Dovrebbe Ah sì Qui vedo l'immagine dell'uomo Eccolo qua Aspetta Guardalo lì Tutto spiaccicato Il cretino Oh Ah si scende anche E cosa E' come guarda Scusa A piedi Tieni il pulsante destro E muovi il mouse Per spostare la telecamera Devo tenere il tasto destro Per muoverla Con le freccette È proprio morto E poi Cosa devo fare Quando fai click Su un paziente Saranno visualizzate Nell'icone con i passaggi Di trattamento Necessari Quando tutti i passaggi Di trattamento Sono stati completati Il paziente È pronto a essere Trasportato Giustamente Paziente Ok Cosa 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 devo cliccare Non mi clicca Sulle cose Non mi clicca Si svegli Mister Freeman Sto clicca Giuro sto cliccando Qualsiasi cosa Clicca L'occhio Del naso Tutto L'orecchio Non è che devo spostare La scatola Ma poi cosa Cosa è successo In questo luogo Che cosa le è accaduto Mi dica Quando fai click Su un paziente Saranno visualizzate Delle icone Con i passaggi Di trattamento Necessari E non lo fa Nullo Dettagli Ah meno male Che ho messo Dettagli ombre alto Perché se no Chissà che merda La grafica Non so cosa devo fare È rotto Devo tenere premuto Il tasto destro Del mouse Intanto muovere Le freccette E salto con spazio Non ho abbastanza Mani per giocare A questo gioco Qualche termosifone Può guardare La guida online Che sicuramente Ci sarà tipo un video Se dice Che cazzo Devo fare In questo gioco Dai video di youtube Ci dovrebbe essere Un tasto Sopra i punti interrogativi Che a te non appare Ma come? C'era veramente il tasto Però invisibile 800 punti Ok Premi il pulsante Del mouse In cima All'area verde Non c'è Non vedo In nessun'area verde Cerchiamo di arrivare Al 100% Ma porca troia Ma posso giocare In queste condizioni qua? Secondo me Ce la facciamo 93 97 99 Ce l'ho fatta E l'ho salvata La vita E adesso Però io non ho più tasti Prova a premere Su tutti i bordi Dello schermo E ma sull'internet Ci sono le immagini belle Ma infatti Non ho capito Perché da me Si vede così Dov'è l'ultimo? L'ho trovato Inverti due parti Per correggere l'immagine Cosa cazzo sto guardando? Dovrebbe essere una mano Tipo la radiografia Di una mano Ma sono due volte La stessa immagine Guarda E due volte La stessa immagine Oh aspetta Aspetta Ce l'ho fatta Lo dobbiamo portare Assolutamente Con la sirena anche Tagliamo Basta Taglia Taglia Contro Cosa ho sbattuto Spegniamola Ti prego Fammi passare Ma sono Perduto per sempre Dimmi di no 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 Ti prego Ti prego Non dimmi che devo rifarmi Tutta la strada Ce l'avevo fatta Non Non fare la merda Con me Ma devo ritornare Fino a dove sono riuscito Dai prendo la strada Prendo Ok Ce l'abbiamo fatta Meno male Sto andando A Tanti chilometri orari Porca Ah eccoci 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 Dai Ti prego Piano Fai manovre tutte tranquille Carine Che siamo arrivati ormai Che è succe Perché Mi sono teletrasporto Cos'è successo Adesso mi spieghi Cos'è successo Mentre io ero sdraiato Giuro che c'era una città No Eh C'era Lo vi Eh Giuro che c'era una città Vuoi tornare al menu O iniziare una nuova Missione Guarda Sono tentato E però